Ecco il tramonto del giorno 14 dicembre 2019, San Giovanni della Croce, siamo al secondo balcone del pontile di Ostia, circa 3 metri e 30 sopra la superficie del mare. Il binocolo è il 16x52 della Bushnell. Che dà una visuale di 66 metri a 8 km. Il contatto con l'orizzonte è avvenuto senza miraggio, cosa non prevedibile perché con una giornata fresca come questa si poteva pensare a una bella differenza di temperatura tra l'aria all'orizzonte e l'acqua invece ha avuto tempo di restaurarsi la temperatura rispetto a ieri, infatti non è freddo qui al mare. L'orizzonte è avvenuto senza miraggio, non è freddo qui all'orizzonte, non è freddo qui all'orizzonte. L'orizzonte è avvenuto senza miraggio, non è freddo qui all'orizzonte. L'orizzonte è avvenuto senza miraggio, non è freddo qui all'orizzonte, non è freddo qui all'orizzonte, ma è freddo qui all'orizzonte. L'orizzonte è avvenuto senza miraggio. la metà del tempo nel tramonto, quindi è il tramonto secondo le effemeridi, secondo Rosenberg nell'articolo di Lloyd del 1968, mentre l'ombra della Terra comincia a formarsi quando l'ultimo lembo del Sole, il lembo superiore, oltrepassa la linea dell'orizzonte. Un uccellino fa il bagno. Aspettano le 16.40, ora, il mare è mosso, ci sono onde morte, che si infrangono presso la statua del Nettuno che rimane sulla sinistra dell'inquadratura, si vede il tridente, adesso sparisce l'ultimo lembo di Sole, e partiamo con l'osservazione, la mia volta, la mia volta, la mia volta, la mia volta. Non dò per il mezzo e non si vedrà, perché adesso le gambe sono il 2,35. Perché no? Non so, non so. Non si vedrà perché l'immagine del sole era fortemente sbiadita. Ecco la strada del Nettuno, un panorama con questo screening che vediamo all'orizzonte che però non ci ha impedito, e l'ombra della Terra comincia a salire. Qui alle nostre spalle, è un tramonto con il pubblico delle grandi occasioni, giornata splendida, con la cintura di vela che si estende lungo tutto. Tutto l'orizzonte, anche addirittura dalla parte del sole, delle belle onde. Ora iniziano le misure dell'ombra della Terra, del progredire dell'ombra della Terra. Grazie.